cari amici eccoci a completare l'allegoria dei dodici doni di dio con l'ingresso del sole in pifis scopriamo il dono speciale riservato a questo segno un mattino dio stava al cospetto dei suoi dodici figli e seminò in ognuno di loro un seme di vita umana i figli si avvicinarono a lui uno ad uno per ricevere i doni assegnati a te pesci affido il compito più difficile ti chiedo di prendere su di te ogni pena dell'uomo e di consegnarmela le tue lacrime saranno le mie lacrime la tristezza che tu assorbirai è il risultato della incomprensione dell'uomo verso il mio pensiero ma dovrai usargli compassione affinché lui sappia di avere un'altra opportunità e provi di nuovo per questo compito così difficile ti faccio dono dell'intuito così che tu possa intuire il mio disegno ma ricorda questo dono è per te e se cercherai di comunicarlo agli altri essi non ti ascolteranno e pesci fece un passo indietro e tornò al proprio posto